E allora, molto velocemente, mi ha fatto molto piacere sentire quello che ha detto Alessia rispetto ai loro successi, perché comunque è un successo, rispetto alla situazione di criticità che si respira e che voi avete sicuramente percepito, nonostante una stampa prona al governo sia nazionale che regionale, l'ostilità che si respira nei confronti di chi vuole fare, chi vuole mettere da parte soldi per riavviare quelle imprese proprio a cui tu stessi hai fatto riferimento, quando proprio hai detto, l'obiettivo vuole distruggere le piccole e le medie imprese, ecco probabilmente noi ci vogliamo porre come antidoto rispetto a questo intento, ecco l'ostilità che voi avete vinto sostanzialmente perché avete appunto degli acci di legge, avete un regolamento nazionale, è stata proprio la stessa che invece ha permesso a noi sì, in regione, l'avete sicuramente seguito, di avere comunque la legge, quindi c'è la legge, ma capite bene che senza soldi non si canta messa e pertanto laddove molti di voi anzi già sapranno comunque questo tipo di informazioni, noi avevamo sicuramente costituito il nostro fondo con le restituzioni di parte degli stipendi, dei deputati regionali, e questo lo sapete, fondo aperto anche ad altri deputati, mai è arrivato un centesimo da parte di chiunque, chiunque, anzi arrivano gli 80 euro di un signore del nord che mensilmente ci devolve diciamo sul fondo del mio credito gli 80 euro di Renzi, ecco la legge però se non ci sono i soldi, crocetta dietro nostra esistenza, dietro nostre notate appunto passate anche lì come voi avete fatto sotto il ministero, allora messa inizialmente nella prima finanziaria un milione e 500 mila euro, l'attimo dopo alla successiva modifica di legge di servilità se vi è subito rimangiato abbiamo visto uno zero e allora abbiamo detto sai che c'è il mio credito lo facciamo noi e sostanzialmente oggi noi siamo anche felici di poter portare i risultati a due anni dall'ingresso all'Assemblea regionale siciliana perché possiamo dire che abbiamo avuto anche numeri interessanti, appunto abbiamo fatto una guassegna, totale delle richieste di informazione ricevute tramite email 4750, chiaramente è calibrato sul territorio regionale, si intende media email ricevute in un giorno 20, media di telefonate ricevute in un giorno 15 e questi sono dati a gennaio 2015. La compilazione del questionario che voi sapete ormai essere una fase successiva alla richiesta di informazioni e risulta essere stata di 1340 azioni e si sono verificate e possiamo dire con orgoglio oggi che il milione e 100 mila, 200 mila insomma continua chiaramente a ripolparsi di mese in mese questo fondo. Oggi hanno dato avvio a 23 imprese che hanno obiettivo, 10 di queste sono start up, attualmente ce ne sono ancora al vaglio chiaramente dei tre enti che è anche una questione di distanza in cui abbiamo affidato la gestione del fondo, che sono Banca Popolare Etica, Impact Hub per la gestione delle pratiche e Fondazione di Comunità Onlus di Messina, capite bene che è necessaria una individuazione di distanza perché la prima accusa che ti viene rivolta è quella del modo di scambio, mentre io sono felice di sapere, di non conoscere neanche chi sono le aziende che oggi fruissono del mio credito, anzi mi ho sentita una qualche giorno fa, solo perché abbiamo avuto la necessità di capire insomma come andava, perché noi stessi come dire cerchiamo di ricevere informazioni rispetto a come sta funzionando e mi diceva grazie a voi in un momento di difficoltà era un piccolo imprenditore del palermitano che fa, che lavora all'ambito della computeristica, dell'informatica e mi diceva proprio in un momento di difficoltà io poi posso i 25 mila e sono riuscito a sofferire a delle spese, mi mancavano delle attrezzature, era un momento di crisi, perché capite bene che chi vuole fare oggi nonostante tutto microimpresa, sostanzialmente la precituzione di Alessio ci è anche servita per comprendere appunto che cosa noi sosteniamo, sosteniamo sostanzialmente, vi dicevo, trova serissime difficoltà, anche perché siamo a un territorio regionale che praticamente non ha idea di cosa sia il mio credito, non ha idea di come sostenere le imprese e veramente non voglio fare piega politica da bar, ma è veramente così, in questo momento c'è anche in scrittura una finanziaria, anzi più finanziaria di lacrime e sangue per i siciliani con un debito di 8 miliardi che abbiamo sulle spalle, uno statuto ci piaccia, no, non applicato, perché che costa, cioè per i siciliani che ci darebbe 8 miliardi praticamente sarebbe paro paro, oggi il costo dello statuto potremmo quantomeno, come dire, diciamo, attrarre l'ossigeno e comunque andando a fare un'analisi proprio molto veloce, vi dicevo, abbiamo tre ambiti sostanzialmente, primi passi, quindi per chi vuole fare creazione di impresa, la possibilità di fare grandi progetti anche valendosi sui fondi Jeremy e poi che sono, sapete bene, fondi europei, quindi per l'impresa e supporto, soprattutto, supporto e garanzie per chi non ha garanzie proprie, sostanzialmente chi non ha uno storico predivizio da poter far valere rispetto alle banche. E' interessante per noi anche il dato finale, cioè di quello che è successo fino a oggi. La piccola impresa, la micro impresa oggi è soprattutto quella della ristorazione, vendita al dettaglio, pesca, ricoltura, soprattutto per coprire spese come quella dell'attrezzatura, dei macchinari e poi altro dato sicuramente interessante che ci fa ancora ben sperare il futuro è che coloro che ci hanno contattato appartengono a una fascia d'età che è tra i 25-35 anni, quindi volendo i giovani siciliani forse ancora credono nella possibilità, abbiamo probabilmente, come dire, creato nell'ottica della solidarietà proprio un'occasione per potere dire, possiamo ancora credere di rimanere qui sostanzialmente, perché questa poi è la cosa che ci fa più soffrire quando vediamo i dati statistici dell'osfoliazione di risorse proprio umane del nostro territorio. Bene, in sintesi voglio veramente essere breve perché non voglio stancarmi anche perché ci sono altri due interventi. Comunque il sito è attivo e funzionante perché l'abbiamo fatto noi e non c'è di mezzo del ministero, microcreditosisiliano.it, lì ci sono tutte le informazioni che possono essere utili e che necessitate, dico per qualsiasi altra cosa chiaramente siamo sempre in contatto e a disposizione per approfondire. Grazie a tutti. Grazie.